C'era o non c'era? C'era o non c'era? C'era o non c'era? C'era! Io sono... Io sono... lo zabaione di mia nonna. Io sono mia madre, anche se non vorrei esserlo. Mi sta bene il cappello? Io sono Giulia Canali. Vengo da Parma, vivo a Roma. Io sono un aquilone. Io ho 31 anni, quasi 32 in realtà. Ciao, siamo partiti! Lavoro con una compagnia toscana e con una compagna di Roma. E al Teatro delle Briciole di Parma. C'è anche il mio spettacolo! Wow, si chiama! Mi piace ridere a squarciagola. Non è finito! Mi piace mettermi a piangere quando leggo un libro in metropolitana. Devo dirlo? Ah, mi innervosisce tanto la gente che butta le cose per terra o quelli che non spengono il motore della macchina quando stanno aspettando qualcosa o vanno in tabaccheria. Mi tranquillizza invece la contabilità. Sì, a fine mese. E mi manca il sorriso storto di mio nonno. Mi diverto molto a giocare con i miei nipoti. Ne ho due. Una di dieci anni e una di tre. Io sono questa. E mi piace molto il mio lavoro. Mi piace davvero tantissimo. Si vede che ho fatto doppiaggio anche un po', eh? Tipo l'azione... Non so, sì. Niente. Sono io. San